Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video, un saluto da Gigi ed oggi siamo qui ritornati su Fortnite in compagnia della mia ragazza Salve Per andare a provare le nuove armi evocromo, proprio perché l'altro giorno c'è stato un bilanciamento per quanto riguarda le armi evocromo E adesso dovrebbero essere più facili da trovare ma soprattutto più facili da potenziare E nel video di oggi andremo ad analizzare questo bilanciamento provandolo proprio sul campo, tra virgolette, ovvero proveremo le armi e vedremo un attimino cosa è cambiato effettivamente Prima di continuare il video però ovviamente come al solito vi ricordo di utilizzare il mio codice creatore GGYPSINONTI tutto grande Tutto attaccato nel negozio oggetti di Fortnite e mi raccomando ragazzola è davvero fondamentale per supportarmi Quindi controllate sempre che su supporto a un creatore ci sia scritto GGYPSINONTI tutto grande tutto attaccato perché ogni due settimane il codice scade e dovete reinserirlo Grazie avvero di cuore a chi lo farà è davvero fondamentale per supportarmi Iscrivetevi al canale se ancora non l'aveste fatto lasciando me il mi piace Fatemi ovviamente poi sapere alla fine del video la vostra sotto in un commento Ora vi lascio la partita, buona visione Allora raga tralasciando il fatto che abbiamo 200 di ping e non capiamo il motivo Io ho anche il segnetto giallo del lag in realtà Sì sì no no anch'io La cosa strana è che abbiamo appena finito di fare un'altra partita e abbiamo giocato bene cioè senza problemi Allora raga detto questo che cosa è successo nella giornata dell'altro giorno in realtà È qualche giorno in realtà che c'è già questo aggiornamento che c'è stato questo bilanciamento alle armi evocromo Ovviamente parliamo del pump evocromo perfetto e del fucile assalto evocromo Ora già sapete in realtà la mia idea su queste due armi Ovvero che comunque l'assalto è devastante mentre il pump ovviamente un po' meno O meno dobbiamo ammetterlo però secondo me non fa così schifo come viene descritto da tutti quanti Cioè tutti parlano del pump come se fosse proprio un'arma schifosa che fa veramente schifo Boh secondo me è esagerato dire così Io l'ho usato fino a poco fa ed è up in realtà Sì a me piace ma non è che non hanno potenziato il danno non hanno potenziato la precisione non hanno potenziato queste specifiche tecniche Piuttosto hanno velocizzato il tempo che ci vuole per potenziare queste armi Sapete che più colpite più la barra sotto il nome dell'arma aumenta quindi più colpite avversari animali avversari atterrati Quindi in realtà non è neanche così difficile potenziare queste armi Ovviamente parliamo delle rarità un po' più basse No no c'ho il pump epocromo e io utilizzerò le armi epocromo nel video di oggi E hanno semplicemente reso più veloce questo processo Sono qua Sono lì? Sì perché mi ha segnato passi E allora arrivo Quindi diciamo che io ho già fatto dei video dove potenziavo le armi addirittura alla rarità mitica Abbiamo visto che per portare la rarità mitica è difficilissimo E infatti sono contento in realtà che abbiano velocizzato il processo di potenziamento di queste armi Però secondo me adesso si rischia che diventino un pochino troppo P Cioè nel senso da un'arma molto basic che può essere verde o blu Arriverete ad averne di molto più potenti Detto questo io non so come arrivare lì dove sei tu senza farmi vedere dall'araldo Ah tu stai pushando i lupi dell'araldo Eh lo trovo di qua ma in realtà stavano pushando qualcuno loro ma poi ci sono andati via Eh ecco sta qua sopra Ma questo che sta a fa qua sopra? Ce n'è uno No me l'ha rubato l'araldo L'araldo mi ha rubato la kill Oh 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 Ma no raga che scam Mi ha rubato la kill l'araldo Comunque vediamo quanto sono più veloci da potenziare Cioè allora già la potevo far blu in realtà da un quarto d'ora In realtà è appena droppata dalla chest blu Ma no io già viola ce l'ho capito? Cioè ho dato un po' di colpi ce l'ho già viola quasi leggendario Pure io Cioè ma adesso è strauppi raga Cioè Comunque altra cosa che non hai detto appunto si può trovare nelle ceste adesso Sì no infatti no lo sto per dire Si può trovare nelle ceste normali finalmente E anche appunto dorato eccetera Quindi anche proprio direttamente di rarità superiori Invece fino a poco tempo fa Fino a prima dell'aggiornamento Non lo potevate fare Mi sta distruggendo l'araldo Perfetto Ok vai a casa E già l'abbiamo fatto leggendario E Comunque quello mitico io me lo prendo Vado in giro con due E E soprattutto si può trovare Si possono trovare anche a terra se non sbaglio giusto? Sì Si possono trovare anche a terra E quindi sono diventate un po' più comuni Delle armi un po' più comuni E effettivamente ragazzi secondo me Non solo non venivano utilizzate Perché magari a molta gente non piacciono direttamente Ma secondo me molti non le utilizzavano Anche perché magari non vengono molto qui al sacrario dell'araldo Non utilizzano magari molto il cromo E di conseguenza si ritrovano a non utilizzarle mai sostanzialmente Invece così le rende un po' più facili da trovare Anche perché comunque Parliamoci chiaramente Sono le armi simbolo se vogliamo di questa Di questa stagione Quindi era anche un po' un peccato Che fossero così difficili da trovare E così irreperibili Per il resto staremo un attimino a vedere Se questo cambiamento delle rarità Amore ti volevi suicidare Fammi capire che è successo Sono scivolata e non pensavo di prendere così tanto danno Perché non sono caduta così tanto in alto in realtà Perfetto Ok E quindi diciamo che non so se è stata la strada giusta Secondo me avrebbero potuto semplicemente Diminuire il tempo per portare le armi a leggendarie e mitiche Che erano effettivamente le due rarità dove è molto più difficile Hanno rebuttato Dove era veramente molto più difficile Arrivare a potenziarle le armi D'altro canto però effettivamente il pump Un piccolo potenziamento Boh gliel'avrei dato Al pump magari un piccolo potenziamento gliel'avrei dato Il fucile d'assalto in realtà io l'ho sempre detto Lo andranno a nerfare Questo mitico dell'araldo ragazzi lo nerferanno Prima o poi lo nerferanno secondo me Ricordiamo però che Il vampa fucile evocromo Ottenibile per terra E quindi quello del loot normale Quando lo fate diventare mitico Non è uguale a questo mitico qua Ci ho fatto un video dedicato A questo discorso dei Ah ti puoi usare lo schizio cromo Per curarti comunque amore Stavo a uccidere gli animali Che nel frattempo potenziamo Ah si vabbè pure quello è vero E non sono uguali Quindi la rarità mitica Si può ottenere anche con le armi normali Non per forza con l'araldo Però non è uguale Rimane comunque più forte questo qui Ma di questo ne ho già parlato Abbiamo già analizzato la situazione In un video che è uscito Che è uscito scorsa settimana No questa settimana mi sa Non me lo ricordo Comunque che ne pensate voi Di questa velocità Che è stata aggiunta A queste due armi Che quindi adesso sono molto più facili Da potenziare Fatemelo sapere sotto con un commento Mi raccomando ragazzuoli Allora effettivamente si sente Questa velocità aumentata Nel potenziare le armi eh Io che ho fatto tutti sti video Con le armi mitiche Dove provavo a potenziarle eccetera E quindi ne ho provate di partite C'abbè una macchina qui davanti Posso confermarvelo tranquillamente Allora attenzione Attenzione perché No in realtà stanno andando dall'altra parte Purtroppo Volevo farmi un bel push Ma se ne stanno andando Ah no stanno firmi dall'altra parte Della montagna Ne ho laserato uno Gli ho rotto lo shield È praticamente bianco Bravissima Bravissima Non ci sono andati dietro l'altro Però poi l'ho perso Eh no no perché si sono andati dietro la montagna Cioè raga guardate mi sono Ho fatto già un quarto della rarità leggendaria Ok eccoli qua sotto Ho laserato Mamma mia ho laserato anche il compagno La bananita non riesco a pigliarla Sì adesso l'ho laserata Perfetto E E niente siamo già a metà del leggendario Comunque raga Anche alla rarità leggendaria C'è uno con la macchina E ci sta venendo addosso Ok dai 10 10 dove vai che fai Scappi adesso Facile così Facile pushare quando pensi di star messo bene E poi però scappi Eh no io ho finito i colpi assalto amore Eh io ne ho Ah adesso l'ho preso Ok Ok Sto prendendo 20 Poi di 200 Ti botto Meglio Perché io veramente li ho completamente finiti La ringrazio E Vediamo un po' Abbiamo dato pochi colpi Abbiamo dato pochi colpi col pump Vediamo a quanto sta E' già quasi epico raga E' già quasi epico Abbiamo dato pochi colpi Nel senso che gliene abbiamo dati un bel po' Ma da lontano senza fargli danno Ah vieni che qua ce n'erano altri 100 e passa di colpi Meno male Grazie Perfetto E comunque ribadisco Questo fucile ragazzi Secondo me lo state sottovalutando un pochino Tutti Ma è veramente forte Tant'è che anche i pro li stanno iniziando ad utilizzare molto più spesso Anche su questo ci ho già fatto un video l'altro giorno È molto forte raga Uh Ok ce n'hai tu due proprio? Sì Ah ok ce n'avevo un'altra anch'io Ok quindi ci apriamo anche il cavo Vediamo se troviamo un'arma evocromo anche nel cavo raga Eh Mi era capitata quella viola Addirittura Ah e l'ho trovata ovviamente Perde però Ok c'è un martello leggendario qui se ti interessa Eh no ormai per il video sto usando anche io l'evocromo Va bene Va bene Va bene Va bene E no il prime Il pump prime Va bene ci sta Peccato Però comunque vi ho fatto vedere che l'evocromo lo potete trovare anche nelle chest normali adesso Come vi stavo dicendo Detto questo io direi di andarci ad aprire il cavo che ho pingato lì amore mio Così almeno bocci continuiamo ad aprire il cavo Ah ecco un'altra arma evocromo raga Adesso ve le spam addirittura nelle chest normali C'è qualcuno qua? Eh si sparano Infatti io direi di pushare loro piuttosto di andare al cavo Io faccio una cosa Ma dov'è? Ma dove sta però? Eh erano qua Ma io continuo a sentire spari ma non capisco Ah da qua sotto dal benzinaio Eh ma uno era qua solo Oddio uno l'ho distrutto Madonna raga Ma 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 mia Eh si mi voleva rubare la kill Mi voleva rubare Allora Ricarico quello leggendario raga Che almeno lo facciamo diventare mitico Ok va bene amore grazie Ah aspetta 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 Non me li finire Ah c'è uno qua sotto Brava No sono morti tutti Rip Volevo caricarmi il pump Mi è arrivato in faccia No 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 è fatto bene È fatto bene Eh E continuano a sparare qui Eh però io direi di andare a riprendere la mongolfiera Io tra l'altro mi c'ero messa sopra la mongolfiera Eh è fatto bene È vero ci sta Soprattutto nelle no build È tanta roba Allora No si stanno sparando tipo qui Eccole Quindi sono molto Ah mi stanno sparando anche da lontano Cosa sta facendo questo? 82 Atterrato Però adesso devo potenziare l'arma Quindi devo ricaricare Altrimenti avrei potuto anche non ricaricare Disegna dei passi qui È di varia gente Mi voleva far ballare questo L'ho distrutto Lo sto per far diventare mitico L'assalto Sono morti tutti? No Ah vediamo di potenziare questo No ancora non lo posso potenziare Brava amore Però mi sa che c'era qualcun altro Sai? Tutto dorato io Io c'ho Sì Il pump è quasi dorato L'assalto è quasi mitico Ah c'è il pump d'oro? Sì l'ho già fatto Ah sì magari Perché voglio vedere quanto ci mette a diventare mitico Thank you so much Allora raga Cinghialotto Per l'assalto mitico Dai che se la può fare Sì Mamma mia raga E adesso vediamo Oh lupi 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 Dove sono? Dove sono? Aspetta mi segna lupi qui dietro amore Sparo un po' anche a loro Ma sta qua dentro Lupo ti sei fatto casa? Ok va bene Raga cioè guardate Con un lupo mi sono fatto quasi un quarto di barra Del pump leggendario Ma è assurda sta cosa Ah la macchina E l'avranno fatta per la missione Che c'era la missione di rendere le macchine cromo e guidarle Cioè se vi ricordate bene ragazzi Nei video in cui volevo fare le armi evo cromo mitiche Ci abbiamo messo un sacco per renderle mitiche Noi adesso in una partita Senza cercare gli animali Le abbiamo cercati giusto adesso in endgame Per vedere un attimino Ne abbiamo rese tante leggendarie E siamo quasi a mitiche con tutte Cioè ma una roba l'assurda Faccio una cosa tattica io arrivo Ok calcola che si stanno sparando qui Quello laserato di brutto Io lì c'è ci sia qualcuno camperato in casa Quindi mentre ho visto le lucce ho buttato le lucce su la casa Hai fatto bene Quelli lì sopra mi sembrano abbastanza cattivi Ma uno l'ho laserato Purtroppo non avevo il cecchino Se no l'avrei one shotato Io gli farei No non gli farei il giro Sta qua sopra Sta sopra la montagna L'ho spaccato Mi sta spaccando lui adesso però Ai 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 Però dietro l'albero è praticamente morto E occhio però perché ci sta Anche l'altro team che potrebbe L'ho distrutto quello L'ho distrutto Cioè quello non C'ha il mal di testa adesso No il problema dietro amore Dietro 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 Eh va bene Ok niente raga Lascio tutti i one shot Ma non riesco ad ucciderli Dovrei anche farmi lo shield in realtà Dovrei Ah eh vabbè Eh vabbè zio Devo farmi lo shieldone Eh raga mi sa che il pump Se questi continuano a sparare da lontano Non ce la facciamo a Potenziarlo ulteriormente Ok Eh questi a sinistra Dobbiamo stare attenti A sinistra e davanti Però avanzerei un minimo Forse andando verso destra però Ah no a destra pure Stanno sparando Sì eh Quelli che avevamo prima dietro Si sono spostati là Ok quello l'ho distrutto Ma non vuole Eh ok non vuole morire C'abbiamo uno a sinistra sempre Che è un mida tipo Mi sembra un mida Che però l'ho devastato È morto praticamente quel mida È praticamente morto Ok Ok Atterrato Lo finisco col pump raga Cioè guardate È praticamente arrivato a metà C'è uno qua dietro Lì dove ci sono le armi Ok 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 Sì c'è qualcuno E mi segna Si sta curando Uh 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 Sta dietro il cespuglio Sta lì dentro Il cespuglio Mezzo dentro Mezzo fuori Ucciso Le altre Mi sa che siamo gli ultimi Uh 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 Sta arrivando Ok No Gli ho rotto lo shield Mi sa Brava È andato giù subito No L'ho finito Ok let's go Eh l'altra era lì in fondo Ok siamo due di uno Siamo due di uno E però io per sicurezza Mi farei Ah eccolo lì Sì Trevolo trenta Sì anch'io Gli ho Gli ho fatto un bel po' di danno Cioè una hit in realtà Una hit Allora aspetta Ah no si sta curando Vai 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 L'ho hittato Dopo che ho rotto il tronco Rip Vediamo No Aia Aia signorino Signori non si fanno queste cose Let's go signori Allora adesso è effettivamente più facile Farle diventare da non comuni rare a mitiche Non aveva senso rendere così difficile questo processo di potenziamento ragazzi Perché come avete visto anche nei miei vecchi video Era veramente difficile farle diventare mitiche E adesso molti voi potrebbero dire Vabbè sì Gigi però è giusto che sia difficile farle diventare mitiche Sì ma non impossibile Cioè ragazzi io dovevo fare delle partite dove uccidevo animali su animali Persone su persone dovevo arrivare ad avere 7-8 kill Ed è impensabile fare tutte le partite così per ottenere le armi mitiche E noi invece adesso in una partita per carità molto aggressiva Do abbiamo sparato un sacco Però almeno abbiamo reso tutte le armi leggendarie E io addirittura sono riuscito a portarne una mitica E appunto tutte le altre leggendarie Così già ci sta Ci può stare secondo me Anche se però il pump lo ritoccherei un attimino Ma solo per renderlo un po' più figo ragazzi Perché la community le sta sottovalutando un sacco queste armi Quindi secondo me Fortnite dovrebbe mettere un po' più di pepe su queste armi evocromo Vi ricordo ovviamente il codice creatore GGYT Tutto grande Tutto attaccato ai negozi oggetti di Fortnite Fondamentale per supportarmi Iscrivetevi al canale se ancora non l'aveste fatto Lasciandomi il mi piace Per noi tutti ci troviamo domani con un prossimo video qui sul mio canale Ciao ragazzi Ciao 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 Ciao